Il ciclista Pierpaolo Adesi è pronto per la sua quarta partecipazione alle Paralimpiadi. Il ciclista Adesi, lombardo di nascita ma abruzzese di adozione, questa mattina tra l'altro in regione a Pescara, è stato proprio presentato alla stampa. L'assessore con delega allo sport Guido Quintino Liris ha voluto infatti salutarlo e trasmettergli il sostegno dell'intero Abruzzo prima della partenza per il Giappone dove disputerà sia la prova in linea che quella a cronometro. Il fatto che Adesi sia l'unico abruzzese a partecipare alle Paralimpiadi, affermato Liris, non può che rafforzare i sentimenti di affetto e stima nei confronti di un atleta di grande spessore che rappresenta uno dei nostri simboli migliori, sia per quello che è riuscito a fare in passato sia per le emozioni che sarà in grado di regalarci tra qualche settimana. Adesi ora partirà per il ritiro di Rocca di Mezzo nell'Aquilano dove la squadra paralimpica di ciclismo resterà fino al 22 agosto, poi la partenza per Tokyo. Si tratta della quarta convocazione alle Paralimpiadi per l'atleta di Torre Vecchia Tiatina dopo quella di Pechino, Londra e Rio. Adesi, nonostante la grande esperienza, si è detto molto emozionato ma non ha negato di fare un pensierino anche per Parigi 2024. Benché la concorrenza nelle gare di Tokyo sarà molto agguerrita, la speranza di Adesi è quella di riportare una medaglia in Abruzzo anche se il ritardo di un anno dei giochi a causa della pandemia ha pesato molto sia sulla preparazione che a livello mentale. Il primo impegno agonistico sarà il 31 agosto nella cronometro, nella categoria MC5 mentre la corsa in linea, nella stessa categoria, è in programma il 3 settembre. Per Mauro Sciulli, presidente del Comitato Regionale Paralimpico Adesi rappresenta un atleta di punta e un simbolo dell'Abruzzo un esempio per tantissimi ragazzi con disabilità che grazie ai suoi successi possono rendersi conto di come lo sport e il movimento paralimpico in particolare siano fortemente inclusivi consentendo di esprimere a pieno le potenzialità di ciascun atleta.